La moda delle meme coin non passa mai sul mercato delle criptovalute, queste meme si comportano tutte nello stesso modo, grandi boom, grandi potenzialità, grandi scommesse, grandi rialzi, Pepecoin 3000 e passa per 100% in pochissimo tempo, ma il problema è sempre lo stesso. È veramente possibile in linea pratica andare a tradare queste meme coin prendendo tutto quello che è il suo app se non siete insider, cioè se non siete veramente parte integrante del team? Esiste qualche tecnica, esiste un modo che possiamo andare a utilizzare per ad esempio prendere questi grandi pump nel modo migliore possibile, diciamo così, e poi uscirne senza le ossa rotte, sì perché moltissimi diciamo alla fine di questi grandi pump poi non riescono a prendere profitto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video sul tema delle meme coin che va a trattare un argomento sempre verde, quindi un evergreen classico, queste meme coin con grandi rialzi, Pepecoin che scansa diciamo anche Shiba Inu dopo il grande rialzo di Shiba e prima ancora di Dogecoin, Dogecoin comunque era una cripto che era nata in momenti non pro meme, era nata un po' per scherzo, poi è diventata diciamo forse un po' il simbolo di tutti i meme coin, le meme coin eccetera. Ma anche Doge ha avuto il suo grande pump, grazie poi a Elon che ha creato diciamo questa fase. E il turno di Pepecoin, questa meme coin che sostanzialmente ha fatto molto scalpore ragazzi perché semplicemente è stata pompata alla grandi da un punto di vista mediatico. Allora, cosa comune intanto i meme coin? Qual è l'atteggiamento che possono avere? È veramente possibile andare a trarre profitto da queste operazioni? Se siete all'interno di queste operazioni, per caso, per pura fortuna, avete fatto questo trade da un punto di vista speculativo. Come portare a casa i profitti in maniera logica perché poi alla fine non sappiamo mai in nessun modo, visto che queste coin sono stratosfericamente pilotate, fin dove possono arrivare. Però c'è un modo scientifico, un modo logico per non uscire dal carro quando ancora può pompare e per andare via quando probabilmente il rischio è troppo alto. Allora, lo andiamo a vedere in questo video, primo punto fondamentale, ragioniamo in termini logici. Ragazzi, le meme coin sono delle pure scommesse, cioè analizzare di una meme coin il progetto o altro è completamente insignificante. Non serve a niente, quindi la meme coin, a prescindere nella sua entità standard, è una mera speculazione. Quindi ragionare su questi tipi di investimenti, tra virgolette, speculativi, lo potete fare solo, esclusivamente, facendo analisi grafica. In tutto il resto, cioè tutti gli altri contesti, sono insignificanti oppure ve li state inventando, cioè vi state dando magari un'idea che magari qualcosa può avere un'utilità sulla meme coin, per prevedere, non so cosa, l'andamento delle meme coin, ma è una supposizione, perché in realtà non c'è storico dietro quelle analisi, eccetera. Le meme coin sono possibili, le analisi sulle meme coin sono possibili solo, esclusivamente, da un punto di vista di analisi grafica. Non c'è nessun altro modo di analizzare una meme coin, non c'è nessun altro modo per cavalcare una meme coin, non c'è nessun altro modo per prendere profitto da una meme coin. Bisogna analizzare, sapere analizzare i grafici e sapere avere un mindset impostato. Secondo punto fondamentale, le meme coin ragionano in termini di struttura riflessiva, cioè il principio riflessivo che consono all'interno dei mercati, che è presente in tutti i mercati, anche gli obbligazionari, anche se in minima parte, per dire, però c'è anche il principio riflessivo, qui è all'ennesima potenza, cioè tutti salgono sul carro, tutti come pecore, diciamo così, fanno la stessa cosa, mi ci metto anche io nella coda lunga, magari guadagno qualcosa. Allora, è un atteggiamento totalmente riflessivo. Il fondamento di una meme coin non esiste, questo vi dice anche come in effetti grandi rialzi possono essere anche generati solo esclusivamente dall'effetto riflessivo e dal fatto che moltissimi investitori possono solo pensare che quella asset possa salire, a prescindere dal suo vero vero valore. Oggi forse un ragionamento del genere bisognerebbe farlo in molti ambiti, perché spesso si confonde il concetto del rialzo del prezzo, per esempio di un asset con il suo reale valore, quando in realtà non è del tutto così. E il concetto delle meme coin ce lo spiega alla grande, ragazzi, va bene? Quindi meme coin sono progetti che non hanno nulla dietro le spalle e ragionano solo e esclusivamente di principio riflessivo. In pratica è una specie di molla, no? Tutti seguono il carro fino a quando va, finché la barca va, lasciala andare. Poi, quando viene meno, un po' iniziano i problemi della gestione della posizione. Quindi, entrare su un investimento meme coin è possibile, dovete ragionarlo come una speculazione totale, una scommessa come una schedina di calcio, insomma, eccetera. Non è nient'altro che questa. Farsi manfrine mentali giustificandovi quello che è l'investimento, perché magari la vostra testa vi sta dicendo che avete avuto ragione per delle motivi logici, non ce n'è bisogno, non lo fate. Scommettere è assolutamente consono, giusto e fa parte del mercato degli investimenti. È bello, anche a volte è un gioco, quindi ci mancherebbe. Può andare, ovviamente non sono così finanziari, non vi do così finanziari e nemmeno ludici, perché ci sono tutti i problemi legati alle scommesse, ragazzi, da un punto di vista anche psicologico. Quindi sono cose che dovete stare molto attenti. Però non c'è nulla di male a fare una scommessa se siete con la testa sulle spalle e poi la sapete gestire. Quindi è inutile andare a giustificarsi l'investimento. Ah no, perché forse poi svilupperanno, non mi ricordo, ai tempi dicevano che Shiba poi sviluppano, non so cose. Magari lo fanno anche, ma non è per quello che è salito il progetto. Quindi andate a ragionare solo la mera speculazione. Quindi a questo punto, ok, io entro, faccio il long all'interno di PepeCoin e poi devo gestire l'uscita. Qui iniziano i problemi. Perché ragazzi? Perché quanti sanno effettivamente gestire un'uscita su una cripto di questo tipo? Allora, voi mi dovete dire, in questo punto di Shiba, chi di voi decideva di uscire qui in questo punto? Chi di voi decideva di uscire qui in questo punto su Dogecoin dopo che c'erano stati delle impennate notevoli che dal novembre 2020 era passato del 31.000% andando su? Ragazzi, chi di voi decideva qui al 79.900% di uscire? Mi viene da ridere, non riesco anche a pronunciare di queste cose. Vabbè, ragazzi, allora, è difficile la gestione dell'uscita. Anche PepeCoin che ho utilizzato, sto utilizzando lo spot di BitCat che a proposito PepeCoin lo trovate su BitCat, ragazzi. Io vi lascio comunque il link in descrizione del exchange che uso anche io per l'operazione sui future. A dire la verità, è sullo short, non sullo spot. Sono spot, ormai quasi sempre vado in DeFi. Allora, questa zona qui, vedete, 3.000% da quando l'hanno quotato ovviamente su BitCat quindi anche ha fatto molto di più da prima. Allora, la questione è chi di voi decide di uscire da queste cripto come lo fa? Non c'è nessun motivo logico. Perché? Perché essendo pilotate, essendo ampiamente spinte in molti non riescono a prendere profitto perché entrano in una spirale psicologica che è quella ovvia. Cioè, ogni volta che c'è un IFI si pensa che si può andare più su quindi non vendo. Nel momento in cui la cripto scende a quel punto io dico eh, però era andata più su qui non vendo. Quindi poi torna a salire e qui adesso posso vendere però poi scende eh, ma era andata più su ah, ma io adesso non vendo. Poi si va in panico generale quando inizia a fare poi per fortuna qui ha ripreso dice, ah, allora molti escono di qui e dicono e vendo adesso perché ho avuto paura. Ok. Sicuramente profitto ma non è una logica adeguata la paura. E qui mi dice, no ah, adesso non vendo più perché può ritornare stesso processo di prima però attenzione guardate che spirale di inversione di questa cripto eh, negli ultimi periodi. Eh, allora è quello il problema cadete pre si cade pre da indi quello che è un atteggiamento psicologico non si riesce a uscire dalla posizione quindi alla fine chi veramente fa profitti da una meme coin chi veramente porta a casa quei profitti da una meme coin chi ha la testa sulle spalle chi ha una logica chi ha una programmazione anche in questo caso di natura eh, da trader perché non c'è nessuna soluzione cioè qui non è che dovete ragionare in altri ambiti qui siete o scommettitori d'azzardo e sapete giostrare con la il position sizing o siete trader e basta non c'è niente altro allora esistono delle tecniche dei modi in cui noi possiamo andare a cercare di ragionare una meme coin e dire come faccio a uscire perché a entrare ragazzi su una meme coin potete entrare con le solite tecniche un po' a cavolo no? un po' sull'hype del momento ma il problema sta proprio nell'uscire allora facciamo un po' di logica da questo punto di vista parliamo della questione pepe coin allora pepe coin se io metto il time frame settimanale intanto bisogna analizzare un grafico e analizzare un grafico di una meme coin teoricamente bisognerebbe iniziare dal grafico daily c'è da dire che però le meme fanno ampie oscillazioni quindi un grafico daily ragazzi non vi è utile perché è troppo pronunciata l'oscillazione cioè lasciate sul campo veramente 30 100 punti come se niente fossero e questo lo dovete mettere in conto se io guardo un grafico del genere non c'è alcun modo di capire dove c'è la via di uscita in sostanza quello che vi sto dicendo è che dovete utilizzare dei time frame inferiori io dico che il 4 ore può essere utile è una giusta via di mezzo per questo tipo di di operatività allora immaginiamo di essere entrati per esempio su pepe coin in questa zona quindi non proprio ai minimi qui del grafico di bit get ma diciamo in questa zona qui a questo punto come facciamo a gestire dovete darvi delle regole le regole devono essere o di natura tecnica guardando il grafico come si muove quindi esco all'inversione di grafico o delle regole di natura gestionale cioè della posizione cioè esco se io dal massimo che ho avuto dal massimo guadagno che ho avuto perdo il 50% del massimo guadagno va bene una cosa del genere una specie di trading stop non va bene il take profit perché non va bene al di là del fatto che voi potete fare quello che vi pare ovviamente sempre me my coin sono ragazzi però concettualmente non è giusto il take profit su questo tipo di asset di scommessa perché queste sono scommesse ragazzi che se prendono il treno a quel punto possono fare veramente numeri devastanti 3000-7000% così a cavolo senza nessun motivo senza nessuna logica se voi utilizzate un take profit ditemi dove lo piazzate quindi siccome questo video cerca di ragionare in termini logici da tradere su una cosa del genere il take profit escluso a priori perché non esiste nessun modo di settare un take profit su una metal coin quindi dovete ragionare a perdita cioè al massima perdita dal mio massimo profitto cioè in trading stop non c'è altra soluzione ragazzi perché è quella più logica quando inverto il trend quando il rischio aumenta rispetto all'hype possibile io levo le tende e me ne vado chi si è visto si è visto e ho fatto il mio gain questo è diciamo in generale quello che si può andare a a pensare perciò ragionando in trading stop ci sono diversi strumenti che si possono andare a utilizzare il più comune il più semplice il più banale trailing stop della storia dei mercati è il super trend adesso ve lo mostro insomma ok ragazzi allora andate nella schermata di indicatori trading view cliccate il super trend adesso ce l'hanno anche loro proprio in versione standard e questo è un classico super trend vi piazzate un super trend con diciamo una serie di parametri che sono accettabili per una meme coin il factor 3 è un po' un po' eccessivo per una meme coin perché ragazzi perché il factor 3 è un moltiplicatore della volatilità vi deve servire per la normalità dei casi ma nelle meme che la volatilità è molto alta moltiplicarla anche per il fattore 3 è molto imponente come cosa quindi io questo fattore lo ridurrei un po' magari togliendogli il 30% quindi rimpicciolendolo un pochino scusate ragazzi non il 30% ma intendevo riducendolo di un 0,3% ok quindi facendo una cosa del genere vediamo se ci riesco ok ci sono riuscito ok quindi gli togliamo un pochino 7 ecco ragazzi io ho tolto 0,3% ok allora questa è la questione allora fatta una cosa del genere potrebbe anche bastare il ATR lente cioè la lunghezza dei periodi ha valore tanto e non quanto io vi consiglio di lasciare un valore standard perché in un contesto come questo utilizzo di un super trend che ha un mero scopo di darvi un'indicazione di natura di massima su una meme coin di cui non vi importa niente di tenerla in portafoglio perché il progetto è vero ma è di levare le tende quando le cose si mettono male andare a essere puntigliosi anche sul parametro a definire non ti serve a niente ma anche perché nel super trend il parametro non ha una grande valenza non vi cambia tanto è il factor che cambia tantissimo quindi direi di lasciare il classico 10 o per chi di voi è amante del numero 14 potete mettere diciamo un 14 o un 12 standard va bene ragazzi io personalmente prediligo comunque il numero 10 in questo caso per evitare evitare di essere molto lenti visto che stiamo utilizzando anche un 4 ore quindi lasciandolo in un contesto del genere guardate un po' il concetto che sta alla base ragazzi è molto semplice molto banale molto si potrebbe dire anche così proprio stupido però è stupido è logico che il super trend è un grande indicatore io lo uso costantemente l'ho modificato in mille modi ragazzi questa meme va chiusa ora cioè proprio in questa giornata perché vedete che il super trend ha invertito in questo contesto ma prima di allora cioè da 28 marzo fino a oggi non aveva necessità di essere chiusa perché vedete il super trend sta ancora mantenendosi dal punto di vista di trend c'è una questione qui siamo sotto del 55% dei massimi lo dovete accettare allora il concetto della trade delle meme coins volete avere una logica di uscita e questo vi aiuta a livello psicologico perché vi fa decidere e dire ok io esco qui poi se il super trend avrà sbagliato ci sarà modo di rientrare in caso se volete rientrare ma non è una cosa che avete deciso arbitrariamente quindi non restate succubiti quello che è il concetto psicologico del dire ah ho sbagliato potevo restare no perché avete applicato una regola avete applicato una logica quella logica ha dei punti deboli ma anche dei vantaggi quindi voi state applicando quella logica lì e siete in una botte di ferro quindi una volta che è andata la scommessa levate le tende e ve ne andate in pratica in sostanza è questo va bene quindi questo è il concetto di questa coin questo non vuol dire che Pepe da domani non può tornare a salire a fare così lo può fare perché il super trend potrebbe reinvertire vedete qui era per esempio down poi è invertito di nuovo è ritornata high ma se avete fatto una scommessa non volete lasciarci le penne perché ragazzi perché io vi faccio vedere la questione ad esempio su Shiba di quello che è successo dopo i famosi hype proprio di Shiba inu ragazzi ok qua vi ho messo anche il grafico a 4 ore per farvi un esempio simile anche alla super trend eccolo qui vi faccio vedere così di Shiba si vedono anche meglio riduciamo anche qui per esempio di 0.3 il il moltiplicatore lasciamo sempre 10 come abbiamo fatto e l'abbiamo ridotto allora guardate qui per esempio nel caso di Shiba in questa versione di Pump si usciva qui ragazzi e tutto sommato si è fatto anche bene perché poi è vero che qui magari si poteva rientrare però una meme coin ragazzi che è pericolosissima e deve avere anche questa struttura da qui in poi in realtà fa solo perdite anche vedete il super trend non serve più in realtà perché non produce dei segnali positivi io a dirvi la verità non lo userei mille volte il super trend su una meme coin ma ci farei l'unico trade che ci avete fatto per darmi un segnale di uscita appunto e non di ingresso come vi dicevo e poi esco levo le tende e basta cosa è successo dopo guardate se noi andiamo per esempio avanti sulla questione di proprio di di shib ragazzi andiamolo per 10 così vi faccio capire allora qui vedete un trend che costantemente scende 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 allora la uscita pirotata da un indicatore da una logica vi serve per eliminarvi questa cosa e poi dovete abbandonare una meme coin ragazzi poi bisognerebbe magari utilizzare delle tecniche di trading diverse ma una volta che la meme ha fatto il suo sdlancio come ha fatto pepe probabilmente come aveva fatto anche doge dopo in un mask come aveva fatto shiba ai tempi e va abbandonata perché lo sdlancio iniziale è in pratica è passato quindi non esiste più quindi questo è quello che è successo poi a shiba dopo vediamo se riesco non me lo fa vedere vabbè ok devo farvela vedere così perché c'è il logaritmo ok eccolo questo è quello che è successo a shiba ragazzi nel momento in cui abbiamo avuto vediamo se abbiamo avuto l'ultimo pump eccolo qua sono riuscito da lì vedete poi un eterno declino eterno declino costante con barra di congestione e declino qui la bolla qui la parte della meme era finita perciò è meglio levare le tende non ha senso continuare stessa cosa anche per doge ragazzi da qui ok noi inseriamo per esempio l'indicatore come vi ho vi ho spiegato tradiamo l'uscita e poi levate le tende in sostanza adesso qui non mi cambio neanche sinceramente non cambia niente con il moltiplicatore qui si usciva e poi si levavano le tende questo è un daily tra le altre cose dobbiamo mettere il 4 ore per evidenziarvi questa cosa e avete su dodge molto diverso perché su dodge la prima rampa l'avrebbe tirata fuori qui ragazzi vedete saremmo usciti prima quindi questo anche per farvi capire come questo indicatore non è una soluzione a tutti i mali ma vi aiuta tanto però non è che è precisissimo qui nel caso di dodge vedete sarebbe rimasta fuori questa parte ed è assolutamente vero però ragazzi qui dodge coin vi aveva fatto un pump nella prima stesura diciamo nella prima fase del 1000% direi che si poteva stare e vi potevate anche accontentare allora questo è una modo una soluzione adeguata per comprendere quando uscire da un meme coin usatelo con cautela pepe è uscito alla candela precedente e di oggi che sto registrando lunedì vi dico la verità perché sarò fuori quindi non non serviva poi registrarlo comunque dopo tanto comunque è un video che non dipende dall'andamento del mercato questo ragazzi però questo è un piccolo trucchetto molto 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 utile vedete è uscito qui in questa in questa candela e basta la meme ha fatto il suo producendo un 580% o per chi ce l'aveva da prima molto molto di più piccolo trucchetto che mi sento di darvi e secondo me può essere utile a molti di voi che sono con le mani legate e non sanno cosa fare avere una indicazione di natura statistica vi può aiutare secondo me in questo contesto va bene ciao a tutti ragazzi grazie